Ciao bambini e benvenuti a Vi racconto una storia. Oggi vi leggerò Storie del bosco di Tony Wolf, edito da Dami Editore. Lasciate che mi presenti, io sono Enriccio, uno degli abitanti del bosco. Leggendo i nostri libri potrete seguirci nelle nostre avventure e conoscere il mondo in cui viviamo. Da noi la violenza non esiste, come non esiste l'egoismo, perché tutti cercano di aiutarsi a vicenda. Siamo felici perché affrontiamo la vita e i suoi problemi con allegria. Ringraziamo ogni giorno che nasce di questa nostra vita meravigliosa. Fermato il Riccio. La festa di primavera. Ah, la festa di primavera! Nessuno degli abitanti del bosco vorrebbe perderla. La festa di primavera con il topo nero che dirige l'orchestra di bombi, grille e cavallette, con le cicali e chitarra solista. La festa di primavera quando il cielo è sereno e pieno di stelle, l'aria tiepida e profumata e il barile pieno di dolce sciroppo di lampone. Mancare a questa festa ci mancherebbe altro. È cominciata però con un ai che si è sentito in ogni angolo del bosco. Che cosa sarà successo? Ha chiesto la tartaruga al corvo e questa ha risposto. Che cosa vuoi che sia successo? Il Riccio che doveva piantare l'avviso è come tutti gli anni si è dato una martellata sul dito. Proprio così succede tutti gli anni a primavera e ormai nessuno ci fa più caso, nemmeno il Riccio. Ci sono tutti, c'è anche un forestiero stavolta, un altro ranocchio e non si sa chi sia, donde venga e dove vada. Ma è il benvenuto lo stesso. Il toporagno gli dice. Vedi? Adesso che l'orchestra suonato l'inno della frittata si comincia a ballare. Ma cosa c'entra la frittata con la vostra festa? Non lo so, nessuno lo sa. Che bisogno c'è di saperlo? È un inno che ci piace e basta. Certo, questo è il segreto degli abitanti del bosco. Non farsi mai troppe domande. La vita è già complicata, perché complicarla di più? Per esempio il Tasso, calendario alla mano, ha dimostrato che il giorno preciso di primavera non è oggi, ma domani. Sapete che cosa hanno risposto l'orsacchiotto e la volpe? Caro Tasso, tutti i giorni sono buoni per far festa. E ora si balla. Il ranocchio ha invitato la ragazza. Oh grazie, avevo una gran paura che mi invitasse il riccio. Capirai con tutte quelle spine. Il riccio ha invitato la coniglietta. A distribuire lo sciroppo di lampone, pensa allo scoiattolo. E il topo d'acqua serve i pasticcini. E c'è un brusio, un chiacchierio, un va e vieni che fa meraviglia. L'orchestra suona e tutti sono felici perché non è difficile essere felici nel bosco. Veramente c'è qualcuno con muso lungo. E il corvo, bombetta sugli occhi e ali dietro la schiena. Trova che le cose non vanno come dovrebbero. Gra dico e gra ripeto, gra! Sciocchezze queste feste, brontola. Perché allora non fare la festa d'estate o d'autunno? Non mi piace, non mi diverto, quasi quasi me ne vado. Ehi, voi altri due? Esclama rivolta al castore e alla marmotta. Che cosa avete da ridere? Noi, ma noi non ridiamo mica. E già, a ridere, e sapete perché? Il castore ha chiesto alla marmotta. Come mai il corvo tiene sempre la bombetta? Non lo sai? Ha risposto la marmotta. Perché ha la testa pelata. Povero corvo brontolone dalla testa pelata. Dice che queste sono tutte sciocchezze. Dice di annoiarsi alla festa e invece si diverte un mondo. E quando la festa è finita, quando tutti felici e contenti e stanchi morti sono a dormire nei loro nidi e nelle loro tane, eccolo far pulizia. Può trarvi il rifiuto e dire fra sé. Ah, che delizia la festa di primavera! Mi diverto un mondo! Ma gra! Dico e gra! Ripeto, gra! Bisogna che domani mattina il bosco sia pulito come sempre. Se no, che cosa direbbero i fiori? E alla fine della festa, il corvo con il suo bidone porta via tutta la spazzatura.